Le prime cinque videocamere per la sicurezza sono operative sul territorio comunale di Pratola Peligna posizionate nell'area del nuovo polo scolastico e del municipio, nel centro della cittadina tra Vicotorre e via Carso, all'ingresso del quartiere di Valle Madonna e in prossimità del sottopasso ferroviario di via Trieste. I dati raccolti fanno capo al comando della polizia locale e un altro importante obiettivo raggiunto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonella Di Nino che si inserisce nel progetto più ampio che riguarderà gran parte dell'area urbana di Pratola Peligna, in particolare gli accessi stradali, le aree dove insistono gli immobili comunali, per tutelare la sicurezza urbana, fungere da deterrente al compimento di possibili reati, accettare lecidi, favorire la ricostruzione di sinistri stradali che dovessero avvenire nelle zone videosorvegliate. Nel regolamento approvato a febbraio dello scorso anno dal Consiglio Comunale, su iniziativa del vice sindaco Nunzio Tarantelli, sono indicate le figure, le modalità di gestione del sistema che è un costo limitato per le casse comunali. Fornitura e installazione degli apparati sono infatti a carico della società che ha in gestione l'impianto della pubblica illuminazione. L'avvio di questa prima fase chiude un lavoro portato avanti in questi anni con l'approvazione del regolamento e la definizione del progetto, sottolineano il sindaco Antonella Di Nino e il vice Nunzio Tarantelli, che arriverà a coprire a gran parte dei paesi per garantire la maggiore sicurezza della collettività.